Iniziamo con la crema Budwin, inseriamo due cucchiai di formaggio quark e versiamo un cucchiaio di olio di semi di lino, aggiungiamo le spezie, un po' di curcuma, con qualche rametto di timo, un cucchiaio di capperi, con un cucchiaio di olive snocciolate. Frulliamo con il frullatore a immersione, amalgamando completamente l'olio con il formaggio. Quando la crema è pronta lo versiamo e è pronta da mangiare. E lo possiamo condire sempre con un po' di timo.